buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale velas block chain è una block chain è molto interessante nata dal codice di solana ha lanciato il suo launchpad ovvero vela spad in questo tutorial andiamo a conoscere vela spad come ottenere il token velas come tenere il token vela spad utilizzando un exchange un bridge è il suo e lo suo app dedicato tutto questo dopo la sigla vela spad raggiungibile l'indirizzo vela spad punto io bella spade scusate il gioco dei parole è il primo launchpad ufficiale della blue chain di velas il sito è davvero fatto molto bene a prima vista diviso in più parti e adesso andremo a vederle la prima cosa che ci salta all'occhio è la possibilità di acquistare un token ma quale token il token nativo del launchpad come ben sapete ogni launchpad al suo token utility al suo token governance che dà la possibilità agli utenti che lo detengono oltre ad essere tradato per speculazione dalla possibilità ai token holder di partecipare alle ido e in base al quantitativo di token che viene detenuto e vincolato in staking danno diverse possibilità di poter appunto partecipare a questa ido con allocazioni garantite o meno a seconda del tier che si va a raggiungere possedendo il token nativo attualmente vela spada il momento in cui sto registrando questo video è il prezzo varierà sicuramente da quando voi lo vedrete sul mio canale si attesta un prezzo di 0,33 centesimi di euro con una scillazione negativa del 14 per cento con un rifornimento massimo circolante di un miliardo di token ha raggiunto nel novembre 2021 il suo prezzo più alto di sempre il suo th a 1 euro e 20 e il prezzo più basso di sempre il 23 dicembre a 0,25 centesimi di euro attualmente siamo almeno 72 per cento rispetto al suo ath molto interessante è la possibilità a chi partecipa alle ido e progetti che partecipano alle ido di essere sovvenzionati attraverso un programma di accelerazione da 100 milioni di dollari costruito sulla base del codice di solana ma è stato potenziato con un sistema di consenso proof of stake ai di post basato sull'intelligenza artificiale velas è progettato per supportare la prossima generazione di applicazioni decentralizzate il sistema di velas che è stato progettato in modo da adattarsi automaticamente alle variazioni di carico della rete per garantire un'espansione coerente e ottimizzare tutte le applicazioni può vantare una velocità di 50 mila transazioni al secondo supportato da contratti intelligenti ovvero gli smart contract scritti in più lingue questo va a garantire una grande opportunità di interazione croce in la mission di vela spade e aiutare finanziare e supportare lo sviluppo delle prossime generazioni dei progetti sul blog chain andando a vedere alcune caratteristiche principale è un token deflazionistico vlx pad andrà beneficiare di molteplici meccanismi deflattivi come ad esempio la bruciatura delle commissioni e le ridistribuzione delle commissioni di vendita sarà un sistema di livelli di allocazione garantita secondo quando dicono tutti i progetti che verranno lanciati su questo pad verranno selezionate accuratamente prima di essere scelti vela spade fa parte dell'ecosistema di blu zilla e va a beneficiare alcune future come ad esempio integrazione in multiplataforma e partnership con la rete di blu zilla vela spade come ho detto prima è il primo launch pad deflazionistico su vela scena andiamo a vedere la distribuzione delle commissioni di vendita al 7,5 per cento delle commissioni verrà assegnata liste che era di bulle x e 2,5 sarà bruciato per sempre i principali meccanismi deflattivi di vela spade vanno a includere una commissione del 10 per cento su tutte le vendite del token ordini di vendita e commissioni di un staking anticipato fino al 25 per cento per quando riguarda le commissioni di stiki anticipato ci sarà anche un'opzione per annullare la partecipazione anticipata questo andrà applicare una commissione del 25 per cento tuttavia se gli utenti aspettano almeno otto settimane per annullare lo ste che non ci saranno commissioni vela spade è stata lanciata con una market cap di 130 mila dollari tengono a sottolineare il loro initial low cap per partecipare alle ido ecco quali sono i tier ci sono 3 tier taurus orio vela con uno staking rispettiva venti di 20.000 50.000 e 100.000 per essere elegibile lo staking quindi per far sì che lo staking sia valido bisogna almeno andare a vincolare i token tre ore prima dell'apertura del round di allocazione per essere voi listati nel primi due tier bisogna andare a mettere un like su twitter commentare retweetare mentre per il terzo tier vela non c'è richiesta nessuna wait list in tutti e tre profili ci saranno le allocazioni garantite ovviamente cambia il peso della pool 10 per taurus 28 per orion 60 per vela il programma di incubazione andrà a selezionare sosterrà i team e i progetti più promettenti quindi non solo i progetti verranno selezionati accuratamente per essere proposti alla community ma il programma di incubazione andrà proprio a sostenere i progetti stessi e il team di sviluppo per aiutarli nello sviluppo del progetto e viene data anche la possibilità direttamente tramite il sito ufficiale di andare a richiedere la possibilità di essere inserito nel progetto di incubazione per avviare il launchpad bisogna andare all'inizio della home e andare a cliccare su open up si aprirà questa schermata dove avremo la possibilità di andare a collegare un wallet non custodial come ad esempio il classico metamask per utilizzare metamask bisogna settarlo in modo corretto ovvero bisogna andare a settarlo su vela scena quindi una volta che avete installato metamask come dice la guida esattamente bisogna andare a cliccare sul network custom rpc e andare a copiare e incollare questi parametri esattamente dove sono richiesti quando si va a impostare una rete personalizzata vi lascerò comunque il link in sovraimpressione ea fine di questo contenuto alla guida completa di metamask supponiamo di aver già impostato metamask correttamente si clicca su connetti wallet si clicca su metamask e in automatico viene preso l'indirizzo di metamask e il quantitativo di vlx pad che deteniamo cosa importante stiamo interagendo con la block chain di velas quindi bisogna avere vlx come token nativo della blog chain per scambiare eventualmente le valute e interagire con la defa e di vela ma soprattutto per il pagamento delle fi perché come combina smart chain bisogna avere bnb per pagare le fee e tirion bisogna avere et su vela scene bisogna avere vlx oltre a vlx bisogna detenere vlx pad che il token nativo del lancio padre che abbiamo visto prima per andarla a mettere in staking e ottenere il tier per partecipare alle ido al momento non ci sono delle ido in arrivo che verranno lanciate ma già nelle prossime settimane ce ne sarà una molto interessante per andare a garantirci la possibilità di partecipare alla ido bisogna andare alla voce staking da qui in poi bisogna fare attenzione nel senso che per andare a acquistare vela spade e velas bisogna andare a acquistare su degli swap o dell'exchange ad esempio gate punto io utilizzando una vpn o eventualmente l'applicazione per mobile q coin oppure pancake swap però packing swap come ben sapete gira subana smart chain e noi stiamo interagendo con la vela scena gate punto io è un exchange e bisogna vedere se supporta l'invio diretto dal wallet ave la scene idem per q coin oppure da un exchange si può comprare vela spade ma non si può comprare voi lx e quindi bisogna utilizzare più exchange attualmente mi pare che solo q coin supporti l'acquisto di vlx quindi di velas con la coppia vlx usd tv lx btc e solo q coin supporti l'accendi velas in uscita quindi l'invio diretto di vlx a meta masche però mi raccomando prima di fare un'operazione anche di spostare i fondi andate ad esempio su q coin cliccate prelievo anche se non avete vlx nel wallet fatto una simulazione e da lì vedete se vi farebbe manda il token con la vela scene idem gli altri cingi fate sempre prima una prova perché queste informazioni possono cambiare rapidamente sicuramente col passare del tempo più exchange come ad esempio gate punto io supporterà l'utilizzo della cene diretta di velas ma al momento essendo abbastanza recente non tutti la supportano abbiamo di aver acquistato vlx su gate punto io per per le varie andiamo su wallet prelievo andiamo a selezionare il tocco alla tipologia di nostri interessi quindi vlx e come vedete in questa schermata supporta e tiri e bsc in questo caso cosa andiamo a fare andiamo a selezionare bsc ci spostiamo su meta mask andiamo sulla cene by una smart cena quindi andiamo a cambiare il network a questo punto copiamo il nostro wallet ci rispostiamo su gate punto io bsc andiamo a copiare l'indirizzo andiamo a selezionare l'importo che vogliamo spedire in questo caso io come prova spedisco tutto il mio a montare e andiamo a inserire le password ok richiesta inviata non ci resta che attendere la ricezione su meta mas che nel frattempo ci spostiamo su coin market cap alla voce velas clicchiamo su more copiamo l'address della baina smart scene ci spostiamo su meta mas che andiamo su import token andiamo a incollare l'indirizzo che abbiamo appena copiato vedete che va a riconoscere l'indirizzo vlx e i decimali l'aggiungiamo come token personalizzato torniamo indietro e aspettiamo l'arrivo perfetto al netto delle fi mi sono arrivati 286 vlx nel mentre ho caricato un pochino anche di bnb per fare questo tutorial per il pagamento delle fi sulla rete di baina smart scene e ora che cosa si deve fare adesso abbiamo vlx sulla baina smart scene bisogna trasferirli sulla vela scene ci colleghiamo a swap pz che è un ponte che è un bridge compatibile con i tiri un bainas cardano ottimi se poligon arbitrio uobi velas e coin ex clicchiamo sul lancio app in alto a destra abbiamo la possibilità di connettere i nostri wallet in questo caso connetto meta mas che diamo l'autorizzazione e vado a selezionare bsc perché ho i vlx sulla bsc e le voglio trasferire su velas qua in basso vado a selezionare cosa voglio trasferire quindi vlx clic su swap si apre questa schermata dove mi va a contare dove viviamo ritorare i miei vlx immetto l'importo che voglio inviare controllo l'importo delle fi e clic su swap accetto tutte le firme pago le fidi 17 centesimi attendiamo completamento e avrò inviato dalla baina smart scene il token velas la stessa cosa tramite gate punto io si può fare anche con vlx quindi con vela spad perché gate punto io allistato sia velas che vela spad quindi diciamo che alla base di partenza gate punto io per utilizzare questi protocolli è una buona base di partenza perfetto come vedete vlx la baina smarcente non ci sono più vado su vela scene e trovo i miei vlx a questo punto o velas sul mio meta mask mi manca ancora per completare l'operazione il vela spad è un'altra cosa perché per andare ad acquistare i tocchi e nido come potete vedere c'è anche bisogno di bio sd quindi per fare questa operazione abbiamo bisogno di velas vela spad e bio sd adesso che abbiamo ottenuto i velas sul nostro meta mask come possiamo fare andare a integrare vela spad e bsd bisogna spostarci sullo swap dedicato a vela scene o agio swap si clicca su swap se arriva a questa schermata riconosce in automatico il portafoglio meta mask di velas o se noi possiamo andare comunque a impostarlo manualmente cliccando su connetti wallet meta mask e come vedete riconosce i nostri vela a questo punto possiamo andare a suo appare ad esempio con vela spad facendo lo swap all'interno del noto meta masca avremo i vlx e i vela spad in questo caso mi raccomando non andate a suo appare tutto il vostro quantitativo di velas perché bisogna sempre tenere vela come token per il pagamento delle fi quindi sua parte sempre un quantitativo inferiore quindi supponiamo adesso non state a guardare le cifre perché lo sto facendo solo per il tutorial quindi supponiamo che voglio su appare 150 velas in vela spad clicco su swap confermo accetto alla firma attendo che venga eseguita la transazione e tra poco dovrà vederli sul mio meta mask a prometo mask clicco su importa token vlx pad l'address l'ho preso sul coin market cap come ho fatto prima aggiungo e vedete che adesso sul vela scendi meta masco vlx e vlx pad mi manca ancora b usd faccio la stessa cosa vlx oppure vlx pad della stessa lo posso su appare anche in b usd quindi qua sotto vado a cliccare ricerca token b usd in questo caso voglio soppare 50 vlx clicco su swap confermo accetto la transazione e aspetto che arrivino sul mio meta mask nel frattempo mi sposto su coin market cap clicco bio sd alla voce more vada a scorrere fino all'indirizzo di velas lo copio mi sposto su meta mask aggiungi token personalizzato lo incollo bio sd confermo effetto vedete che adesso sul mio portafoglio o tutti i token che mi servono per l'acquisto ovviamente le cifre gli importi non sono quelli corretti perché l'abbiamo visti prima quanti token ci vogliono di vela spad per metterli stechi e quanti eventualmente busd occorrono per acquistare i token delle ido però vi è servito questi tre passaggi per far vedere come preparare il portafoglio di velas in questo caso noi abbiamo i vlx per il pagamento delle fio i vari swap vlx pad da mettere in staking e bio sd per andare a comprare i token delle ido questo punto bisogna cliccare su staking a questa schermata abbiamo la possibilità di mettere in steche il vlx pad e di cliccare eventualmente all'antique per richiederlo indietro e come vedete mettendolo in steche comunque ci viene ricompensato modo variabile al momento del 17,44 per cento quindi andiamo a depositare a bloccare i nostri vlx pad base a quanti ne depositiamo ci verrà assegnato un tier per ricompensa che stiamo comunque bloccando del valore la piattaforma ci ricompensa del 14,44 per cento inoltre possiamo andare a partecipare alle ido per acquistare il token di un progetto andare comunque a fare le operazioni vi invito a visionare i documenti di velas pad e andare anche a leggere i termini e le condizioni una volta che si è messo in stechi il token vlx pad bisognerà tenerlo vincolato almeno otto settimane prima di andare a richiedere una stick ovviamente si può andare a chiedere una stick anticipato ma come ha detto a inizio video facendo la stick anticipato ci sarà una commissione da pagare del 25 per cento a una volta che si ha bloccato i velas pad qua in alto uscirà un link da cliccare che sarà il link del che essi per andare a verificare l'identità quindi dopo aver bloccato i velas pad dopo aver fatto il che essi si potrà andare finalmente a partecipare a una raccolta fondi il passaggio che vi ho fatto vedere tramite gate punto io lo swap il bridge e metamask sono stati fatti perché gay punto io non supporta l'invio del token delle cripto valute direttamente sulla chain di velas a metamask qualora troviate un exchange che può inviare vela direttamente a metamask si potrà andare a interagire con luoghi swap se tralasciando il bridge connettendo metamask a luoghi swap si potrà andare a suo appare vlx per vlx pad e anche per busd bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video lo abbiate trovato utile ma soprattutto di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiata ancora fatto e se avete voglia tempo doni bianca la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi mi raccomando prendete sempre questi contenuti come contenuti educativi non sono assolutamente consigli finanziari vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto ciao a tutti bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video lo abbiate trovato utile ma soprattutto di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiata ancora fatto e se avete voglia tempo doni bianca la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi mi raccomando prendete sempre questi contenuti come contenuti educativi non sono assolutamente consigli finanziari vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto ciao a tutti